8.000 studenti toscani, 16.000 occhi puntati sui testimoni che ancora ci sono dell'orrore dell'olocausto e delle leggi razziali antiebraiche fasciste del 1938, di cui nel 2018 ricorrono gli 80 anni, ma anche di quelle leggi razziste imposte nelle colonie africane l'anno prima, nel 1937, su cui la Toscana ha deciso di fare luce, nel giorno della memoria, in un Mandela Forum gremito di ragazzi a Firenze. Attenti, lucidi, commossi dalle storie raccontate durante l'evento organizzato dalla regione toscana e dalla Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, che si ripete dal 2006 ogni anno pari, mentre nei dispari parte il treno della memoria per Auschwitz. Storie che per i ragazzi accolti al loro ingresso dall'orchestra multietnica di Enrico Fink si sono unite a quelle studiate sui banchi di scuola, perché la memoria deve essere coltivata e perché il rischio dell'intolleranza è sempre dietro l'angolo, lo ha detto Roberto Saviano in un videomessaggio e lo ha ripetuto il presidente della regione toscana Enrico Rossi, ricordando i 1800 che dal binario 16 della stazione di Santa Maria Novella, partirono per i campi di concentramento, ma anche i senegalesi Sambe e Diop uccisi in piazza d'Almazia da un neonazista e non nel secolo scorso, solo nel 2011, vittime di odio e miti della razza. Sono concetti che abbiamo sentito nel secolo scorso e che hanno portato a un disastro, hanno portato all'orrore. Noi siamo convinti che a tutto questo bisogna reagire, che il popolo italiano ha senz'altro al proprio interno tutti i valori e tutta la forza e l'energia, i giovani in modo particolare, perché queste linee non si affermino, non passino e invece si pensi ad un futuro più giusto, con maggiore eguaglianza tra le persone, più libero e senza frontiere di pace, di serenità, di lavoro. Questi sono gli obiettivi a cui dobbiamo guardare. a casa nostra, in questa regione, in Europa e anche a livello mondiale. Una prospettiva che scavalca tutte le frontiere e non è un caso se il titolo scelto per l'edizione 2018 del giorno della memoria sia stato dal razzismo di Stato allo Stato di diritto. In questo Stato di diritto non c'è posto per l'indifferenza, forse il nemico peggiore da combattere contro cui è schierata anche l'Europa. Trovo incredibile che la regione toscana e la città di Firenze abbiano organizzato questo importante evento. Penso che sia veramente un modo eccellente di ricordare le atrocità della Shoah. Ritengo che il messaggio più importante di questa giornata e la sfida per tutti, non solo per i giovani, ma soprattutto per loro, sia di non essere mai un semplice spettatore, ma di essere coraggioso e di parlare, di dire quando qualcosa va storto nella società e va nella direzione sbagliata, di parlare quando vediamo cose sbagliate sui social media. Non dobbiamo mai lasciare che gli altri restino da soli quando sono in difficoltà e questo è esattamente quello che abbiamo sentito qui dai testimoni dell'Olocausto. Sul palco le storie di chi ancora non ha ceduto alla stanchezza e nello sguardo sprizza la voglia di raccontare e mettere in guardia da pericoli difficili da riconoscere ma sempre in agguato come Vera Vigevani Yarak, fuggita in Argentina per le leggi antisemite italiane e divenuta per un drammatico avvitamento del destino madre di una desaparecida, o come Aldo Zargani che dell'infanzia sconvolta dalla persecuzione fascista ha fatto una battaglia di vita. L'importante è non arrendersi mai. Non è che guardiamo indietro perché noi guardiamo avanti. Io se non sono del secolo scorso ma sono anche di questo. Il nostro desiderio, il nostro sogno, la nostra speranza è che non accadano mai più queste cose, tutte queste cose, le persecuzioni, le guerre e i genocidi. La grande avventura della mia vita è stata l'avventura della catastrofe dell'Europa di cui tutto il mondo, e l'Europa in particolare, deve essere conscio. Questo è stato. E abbiamo combattuto la nostra battaglia che è consistita nel sopravvivere. Una battaglia combattuta, vinta e ora raccontata ai ragazzi, comossi nel rivivere la terribile storia di Andra Bucci, deportata da bambina con la sorella Tatiana ad Auschwitz, e che solo nel 2004 ha iniziato a descrivere l'orrore vissuto in quell'inferno di filo spinato e neve. Il motivo, prima la loro storia, non interessava a nessuno. Ora sì, come anche le storie degli altri testimoni, che però sono sempre meno. Siamo rimasti veramente in pochi. È impressionante. Mi ha fatto un'impressione tremenda. Ho saputo l'altro giorno a Roma che siamo soltanto rimasti in sei in grado di raccontare. E quindi questo è un segno che è logico. Gli anni sono tanti, quindi la fatica è anche tanta, ma io sono certa che una piccola parte, un piccolo seme viene, si attecchisce, insomma, va avanti. Semi che hanno anche la voce di Kitty Brown Falaschi, anche lei sopravvissuta a nove anni ai campi di concentramento di Ravensbruck e Bergen-Belsen. Se sono sopravvissuta, ha detto una ragione c'è ed è proprio quella di raccontare. Ci sono tante persone della mia famiglia che non hanno nome da nessuna parte. Sono morte, scomparse, li hanno buttati nel mucchio, oppure chissà che. E io ho pensato che dovevo scrivere i loro nomi da qualche parte, perché scrivere è stato più faticoso che parlare, dovevo riflettere di più, quindi pensarci di più. Però l'ho fatto e sono contenta perché ho un fratello che è morto a Bergen-Belsen e non abbiamo più ritrovato il corpo. Storie tragiche che in forme diverse si ripetono, perché ancora c'è chi perde il proprio nome mentre cerca una via di fuga da guerra e sofferenze. Quei nomi invece devono essere loro restituiti, ha detto la scrittrice di origine somala, Igiaba Ascego. Ricominciare dalle storie, ricominciare a umanizzare le persone, perché quando uno dice sono sbarcati 300 persone da Lampedusa o da qualche altra parte, noi vediamo solo i numeri, vediamo le cifre, ma se diciamo che oggi è arrivato Omar che sogna di fare il cuoco o Amin che magari vuole soltanto andare a scuola, cambia tutto. Per cambiare però serve impegno e capacità di imparare dalla storia, per carpire segnali e fiutare i pericoli prima di cedervi, un appello accorato rivolto dai testimoni agli studenti toscani. Se la società non si impegna si torna indietro, se non ci si impegna a guardarsi attorno per trovare una strada che sia di progresso e non una strada che ti porti indietro a vecchie ideologie, a vecchi modi anche di produrre, anche sul lavoro c'è da stare attenti, perché anche lì stiamo tornando indietro per i rapporti di lavoro difficili, è difficile lavorare, insomma c'è una situazione in cui bisogna essere, bisogna che i giovani, se vogliono vivere in un modo decente, stiano attenti, si riflettano e cerchino sempre un'idea a cui aggrapparsi. L'individualismo non l'ha mai portato da nessuna parte. Perché la storia insegna che la crudeltà è studiata e scritta a tavolino, come quelle leggi razziali che il fascismo impose nel 1937 nelle colonie e su cui nel corso della giornata si è tenuta una vera lezione, mentre sugli schermi scorrevano le immagini dei titoli cubitali comparsi l'anno successivo sui giornali italiani. La legione toscana si è ricordata che nel 1937, cioè un anno prima della legislazione razziale antisemita, fu stabilita una legislazione razziale anti-indigena, una legislazione razziale coloniale. L'Italia, come tanti paesi europei, aveva le colonie, ma non in tutte queste colonie vigeva una legislazione razziale. C'erano pregiudizi anti-indigeni, ma non c'era una legislazione. Il fascismo introdusse una legislazione, una normazione del tipo di quella sudafricana dell'Apartheid. Le conseguenze di quelle scelte sono ancora sulla pelle di chi in Africa vive, a testimoniarlo i canti della resistenza etiope contro l'occupazione fascista, fatti risuonare dalla scrittrice e musicista Gabriella Germandi. Anche la sua storia è una testimonianza vivente. La mia famiglia d'origine è stata separata dalle leggi razziali. Io ho avuto un nonno italiano e una nonna etiopica che non hanno potuto vivere assieme. Questo mio nonno è stato deportato perché si era sposato tradizionalmente con mia nonna. In conseguenza di questo, insomma, mia madre ha avuto una vita terribile, è stata messa in un collegio di suore, così come raccontava la banca che i meticci non potevano andare a scuola. Ha vissuto tantissime sofferenze che si è portata dietro per tutta la vita e che ha riversato anche su noi figli. Voci, musiche, suoni e soprattutto racconti destinati a entrare nel cuore degli studenti. A loro ora il compito di scrivere un futuro nuovo, migliore, senza l'insidioso rischio che si ripetano gli errori del passato. Grazie. Grazie. Grazie.